Amici di YouTube, Geoffrey Mancada ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo Newcastle Milan 1 a 2. Ora, io non dedico quasi mai dei video singoli all'analisi delle dichiarazioni dei dirigenti, ma in questo caso mi sembrava doveroso, perché noi per mesi ci siamo lamentati del fatto che questi dirigenti non parlassero, che non ci mettessero la faccia dopo le sconfitte, eccetera, eccetera, ed invece Mancada ha parlato dopo una vittoria sì, ma dopo una serata comunque non facile da gestire per il Milan, una serata che ha di fatto sancito l'eliminazione dalla Champions League, nonostante abbiamo tentato in tutti i modi di spacciarcela come una qualificazione all'Europa League, e Mancada in parte in questa intervista lo farà, è stata un'eliminazione dalla Champions League. Ora, noi dobbiamo anche analizzare un po' tutto il momento, cioè in questo particolare momento storico, il Milan con le dichiarazioni, con i canali ufficiali, con i giornalisti vicini, con gli addetti ai lavori, sta cercando, in modo disperato, di creare un po' di positività all'interno dell'ambiente, perché loro lo sanno, lo sanno che c'è un'immensa sfiducia in giro, lo sanno che i tifosi non sono contenti, e stanno cercando proprio in tutti i modi possibili, immaginabili, di recuperare un po' di questa fiducia persa in questi mesi, fiducia che in parte non c'è mai stata, perché insomma, quest'estate in molti erano già contro questa dirigenza, dopo soprattutto quello che è successo con Maldini e Massara, dopo la cessione di Tonali, eccetera, eccetera. E c'è anche un problema, il problema è proprio che i tifosi del Milan in questo momento non vogliono starli a sentire, cioè il tifoso del Milan in questo momento non è portato a sentire determinate dichiarazioni, in questo momento il tifoso è incazzato, si vuole sfogare, vuole essere incazzato, vuole essere lasciato in pace, ed in questo momento vuole sentire soltanto quelli che smontano tutto, quelli che dicono più li out, quelli che dicono che tutto fa schifo, quelli che dicono che questi sono degli incompetenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Moncala si rivolge ad un pubblico non particolarmente propenso. Ed infatti le reazioni sono state, dire, non particolarmente entusiaste a questa intervista. Cioè in molti hanno detto, se dichiarazioni insensate che non hanno il minimo senso, le dichiarazioni completamente distaccate dalla realtà, io in realtà non le ho trovate così pessime. Anzi, anzi, andiamole a leggere così le analizziamo nel dettaglio. Allora, Milan TV dopo Newcastle-Milan, Joffrey Moncala. Peccato, dice, perché siamo stati veramente vicini al passaggio del turno. Era importante per noi. Siamo arrivati a otto punti come il PSG. Magari dovevamo fare meglio nelle prime due partite, in cui abbiamo sbagliato qualche situazione. Ora dobbiamo tornare forti sul campionato. Veramente un peccato per la Champions perché ci siamo andati molto vicini. Quindi, allora, già il fatto che venga detto è un peccato, volevamo continuare, c'è il rammarico, eccetera, eccetera. Già personalmente la vedo come una cosa positiva che va in parte a riparare quel clima da eeeh, ci siamo qualificati all'Europa League, che meraviglia, che bello, bla bla bla, che qualcuno aveva sbaglierato in questi giorni. Quindi Moncala va già un attimo a, come dire, a ridimensionare un po' questa gioia, no? che qualche genio aveva fatto trasparire su internet e soprattutto dà anche una chiave di lettura di questa eliminazione perché lui sostanzialmente parla delle prime due gare ed è importante perché dopo ci ritorneremo. Lui parla delle due gare, non parla del Dortmund, non parla di quello che è successo contro il PSG, parla delle due gare, quelle giocate meglio contro il Newcastle e contro il Borussia Dortmund e dice abbiamo sbagliato qualche situazione. Che cosa intende lui? Parla dei gol sbagliati. E questo oggi è un tema, perché lui dice non abbiamo passato il turno perché in quelle due gare abbiamo sbagliato qualcosa. E qui lo vedete? Sentite? Sentite? Giustificazione nei confronti dell'allenatore. Qualcuno si incazzerà. Però anche lì io lo trovo molto coerente come pensiero. Continuiamo. A Newcastle sugli scudi gli acquisti del mercato gli chiedono, ragazzi ripeto, Milan TV era chiaro che non gli potessero fare domande particolarmente agguerrite per usare un neofemismo, però comunque ci possono dare degli spunti. Abbiamo visto, dice Moncada, che questo gruppo ha lo spirito giusto. Ci sono stati dei buoni cambi. Il mister ha fatto dei buoni cambi e questi sono entrati subito bene. Okafor è entrato bene. Jovic sta facendo cose interessanti da cinque partite. Chukweze? Sono contento per lui perché è un bravo ragazzo che lavora tanto e sono sicuro che il futuro per lui sarà bello con noi. Quindi, siamo sempre lì. Difesa del mercato fatto, complimenti ai nuovi acquisti e soprattutto complimenti a Pioli perché dice ha fatto dei buoni cambi il mister. Lo spirito è quello giusto, questo gruppo ha lo spirito giusto. Come andare avanti, poi gli chiedono. Dobbiamo recuperare i nostri difensori. Abbiamo battuto una squadra di Premier League giocando con un terzino sinistro nel ruolo di difensore centrale. Quando avremo la squadra al completo io penso che torneremo al livello visto ad agosto e a settembre. Ora, questa parte ha fatto incazzare tutti perché hanno detto lo vedi? È la giustificazione nei confronti dell'allenatore. Blah, 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 blah. Ragazzi, non è una giustificazione. Questo è il loro pensiero. Loro pensano veramente questo. Loro pensano che Pioli sia l'uomo giusto e che la stagione, fondamentalmente, fino ad ora, sia andata male a causa degli infortuni. Ed è un pensiero, ripeto, coerente con quelle che sono state le loro mosse, con quelle che sono state le loro decisioni. Perché se loro avessero ritenuto Pioli il principale responsabile lo avrebbero già esonerato. Il fatto è che loro non lo ritengono responsabile. Ed è per quello che vi dico Pioli non è mai stato a rischio esonero. Pioli lo vogliamo out noi. È il nostro pensiero. E quindi noi vogliamo che questo sia il pensiero della società. Ma, sbagliando, a parer mio, lo ripeto, sbagliando, loro non lo ritengono responsabile. Per loro il problema sono stati gli infortuni. Loro non guardano a come gioca la squadra o comunque non lo fanno in pubblico. Loro lo reputano fondamentalmente non colpevole. O comunque, la versione ufficiale è questa, ma è una versione ufficiale che secondo me corrisponde alla realtà. Perché poi Pioli è in panchina. hanno avuto mille mila possibilità per esonerarlo. Ma lui è rimasto sempre lì. Lui è sempre lì. Quindi non lo ritengono responsabile del rendimento. Degli infortuni poi è un altro discorso. Continuiamo. Il Milan giocherà l'Europa League. dobbiamo pensare solo positivo perché restiamo in Europa. Dobbiamo pensare solo a fare bene in questa competizione perché è una bella competizione dobbiamo giocarla bene. Questa dichiarazione si ricollega proprio al discorso che ho fatto prima. Cioè loro in questo momento sanno qual è il clima. Sanno cosa pensano i tifosi. Voi che cosa pensate? Ragazzi il Milan avrà decine di persone se non di più che lavorano diciamo sui social che raccolgono le reazioni che monitorano tra virgolette quello che può essere il pensiero di noi tifosi. Loro lo sanno qual è il clima. Lo sanno che non ci fidiamo di loro. Lo sanno che vogliamo pioli fuori dalle palle. Lo sanno lo sanno ed è per quello che tutte queste mosse e tutte queste dichiarazioni sono finalizzate proprio al cercare di creare un po' di positività perché lui non dice sto fatto dell'Europa League come fanno alcuni su YouTube l'Europa League è una competizione che bello lui lo dice perché dice ragazzi siamo in Europa è una bella competizione possiamo giocare per vincerla abbiamo tutta una stagione dai ho capito che siete incazzati con noi però dai sosteneteci un po' abbiamo una stagione possiamo ancora creare qualcosa in questa stagione e la dimostrazione di questo è proprio quello che è stato fatto ieri sul canale ufficiale del Milan perché ieri sul canale ufficiale del Milan Suma Lollo più i vari hanno organizzato una cosa del genere hanno analizzato le dichiarazioni di Moncada fondamentalmente proprio per questo proprio per cercare di creare un ambiente positivo all'interno della tifoseria per ricreare un po' quel clima e lo hanno ammesso anche loro cioè loro lo sanno ripeto lo sanno che siamo tutti incazzati come le bisce in questo momento se ne rendono conto e stanno cercando di tra virgolette rimediare rimediare tanto che tanto che poi ci ritorneremo un attimo su quello che è successo ieri perché qualcuno si è incazzato per quello che ha detto Trevisani eccetera eccetera ci ritorneremo Moncada termina l'intervista dicendo i nostri tifosi sono sempre presenti e forti sono molto contento di loro vogliamo e dobbiamo fare qualcosa di più per loro dobbiamo farlo sicuramente tifosi vi voglio bene vi prego sosteneteci noi vogliamo fare qualcosa per voi vogliamo noi vogliamo darvi delle delle soddisfazioni dobbiamo darvi delle soddisfazioni ragazzi ora io onestamente non non penso che queste dichiarazioni siano così pessime considerato il momento perché qualcuno su twitter ha qualche folle le ha paragonate alle dichiarazioni di Maldini nella cosa tipo siamo nei parametri ma non no non è la stessa cosa non sono le stesse dichiarazioni perché lui all'inizio lo dice chiaramente che è un peccato per la Champions ce lo dice che questo è un risultato tra virgolette negativo poi però dopo il risultato negativo dicono adesso però dobbiamo ripartire dobbiamo ripartire perché nonostante questo risultato negativo c'è vita dopo e dobbiamo stare uniti dobbiamo provare a ricreare un ambiente positivo per affrontare quel che resta della stagione quindi questo è il messaggio di Moncada non c'entra niente con il siamo nei parametri che disse Maldini l'anno scorso e dobbiamo essere molto chiari su questo aspetto che secondo me qualcuno non ha capito fino in fondo ma detto ciò detto ciò io io raga non sono d'accordo cioè sull'analisi fatta però sull'allenatore ripeto è un'analisi coerente per quello che per quelle che sono state fino ad ora le mosse della società me ne rendo conto è coerente che loro non lo ritengono responsabile nelle dichiarazioni perché di fatto non lo hanno esonerato però mi auguro che nelle segrete stanze delle analisi sugli infortuni su quella che è stata la preparazione estiva su quello che è il gioco non proposto da questa squadra venga però fatta l'analisi un po' più approfondita che non sia siamo calati per colpa degli infortuni ma questa parte purtroppo non la posso dare per scontata perché lui parla del livello visto ad agosto e a settembre quindi temo che su quello ci sia molto da avere paura purtroppo perché evidentemente mi sa di no evidentemente vedo sugli infortuni mi tengo il beneficio del dubbio per quanto riguarda il gioco mi sa di no per quanto riguarda il gioco mi sa che sono realmente convinti che il problema siano solo gli infortuni ahi noi e che dire dichiarazioni coerenti con quelle che sono state le loro mosse ripeto sì dichiarazioni giuste per provare a creare un clima di positività sì ci stanno considerato il momento dichiarazioni sull'analisi del momento coerenti sì ma non mi trovo d'accordo perché il Milan ha evidenti problemi a livello di gioco e gli infortuni non sono l'unica causa e questo dobbiamo dircelo con la più totale franchezza poi su quello che è successo ieri a Milan TV che poi si è creata una mezza un mezzo casino su Trevisani che ha definito i scemi dei social diciamo quelli che insomma le persone un po' che popolano i social che fanno commenti particolarmente accesi eccetera eccetera ora io ho visto solamente uno spezzone non ho visto tutto il discorso io mi auguro che lui si riferisse un attimo a quelli che fanno commenti particolarmente accesi a quelli che offendono cioè io voglio sperare che lui si riferisse a quelli perché se gli scemi dei social sono semplicemente quelli che esprimono un parere su questo allenatore su questa guida tecnica eccetera eccetera siamo veramente messi male siamo veramente messi molto male anche perché ripeto ieri hanno chiamato proprio la falange più olista ma e ci ripeto è tutto per quello cioè è tutto per dire difendiamo tutti creiamo sto clima quindi difendiamo anche l'allenatore cercando un attimo di rediverlo agli occhi dei tifosi ma secondo me quella è una causa persa quella è una cosa completamente persa e anzi cioè tutto quello che faranno proprio per tentare di riparare a questa cosa sarà destinato proprio a fallire miseramente perché a meno che non mi portino dei contenuti cioè io non cambierò idea cioè a meno che qualcuno non venga con dei dati con delle situazioni di gioco analizzate nel dettaglio io non cambierò idea su Pioli cioè io non cambio idea su Pioli perché Trevisani mi viene a dire il percorso nei quattro anni di Pioli e sta ha visto più cose positive che negative ma chi se ne fotte di quello che è il percorso dei quattro anni stiamo parlando di questa annata di questa stagione di questo anno solare cosa me ne fotte del percorso dei quattro anni cosa me ne fotte cioè se tu mi vieni a dire questa cosa la differenza fino alla settimana scorsa la differenza tra Pioli e l'Inter è solo il derby perché se avesse vinto il derby sarebbero a pari punti quindi nelle altre partite hanno fatto lo stesso no non mi convinci così perché questa è la classica filosofia risultatista che gente come Trevisani e molti altri criticano da anni quando si parla di Allegri quando si parla di Morigno è la filosofia che tutti questi attaccano da anni solo che che ora la utilizzano per difendere Pioli quindi io chiedo al Milan canale ufficiale se dovete organizzare la difesa Piolista la falange Piolista portateci dei dati portateci qualcosa di concreto non è con la filosofia che mi farete cambiare idea cioè non è con le analisi superficiali che mi farete cambiare idea su questa stagione e non è portando la gente in live di gli scemi dei social i quattro anni ci sono state più cose positive che negative che mi farete cambiare idea non ci non cambieremo idea in questo modo perché quello che imputiamo a Pioli non è il percorso in quattro anni è l'anno solare gli infortuni è il rendimento di questa stagione è il gioco che non c'è parlateci di questo noi questo vogliamo sentire è l'unico che analizza la cosa lì in mezzo è Serafini come gioco che parla proprio delle situazioni di gioco perché gli altri non lo fanno o se lo fanno lo fanno in modo molto superficiale quindi onestamente Peto fatti se volete la difesa se volete fare gli avvocati del mister portateci fatti concreti carta che canta non la filosofia perché non ci serve la filosofia detto questo sempre forza Milan ragazzi noi ci vediamo domani a partire dalle 15 per la live della vigilia di Milan Monza non ci sarà la conferenza stampa di Pioli quindi parleremo così del più e del meno chiao grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.